Il povero Ciampi che è andato in Germania a dire... È andato da Kohl, no? L'avete visto, no? Tre giorni fa da Kohl era. C'era Kohl e lui che lo... C'era Kohl, sembrava la custodia di Ciampi. Cioè che apriva, si apriva, usciva Ciampi. E è andata a minacciare la Germania. Ha detto, la smettete questo Bundesbank, il Marco? State attenti, eh? State attenti perché... Verso la fine del 94, in Italia ci sarà... La ripresina. La ripresina.